Buongiorno a tutti, sono Patrizia Pirrotta, faccio parte dello staff di SiuSound. SiuSound è un festival di cinema e tematica musicale che ha il primato di essere stato il primo festival in Italia a promuovere la cultura audiovisiva. Nel nostro festival abbiamo tutti i formati dell'audiovisivo, quindi dal lungometraggio, cortometraggio e anche videoclip. Abbiamo accolto con molto piacere la richiesta di Beat of History, Mauro ha indagato la parte della musica nella videogame e siamo contenti perché ci piacciono molto le contaminazioni e fare rete anche con altre realtà. Passo la parola adesso a Mauro che si occuperà poi di fare la mediazione qui nel dibattito. Perfetto, infatti faccio parte del gruppo di selezione videoclip per il festival SiuSound, di cui fa parte anche Patrizia. Semplicemente mi è stato chiesto da parte del direttore del festival Maurizio Pisani che salutiamo a distanza per adesso a Cannes a fare selezione e ricerca di materiale audiovisivo che poi proietteremo al prossimo festival che sarà il prossimo anno quindi qui a Torino. Semplicemente mi occupo quindi di ricercare videoclip che poi andranno proiettati, saranno proiettati al cinema, quindi il cinema massimo solitamente è stato luogo di lezione. E niente, siamo una squadra di altre quattro persone e adesso c'è un nuovo curatore della selezione. E quindi mi è stato chiesto di fare questa selezione invece per il festival da Bit of History di circa una trentina di video. Sono video che come dice il nome stesso dell'evento si chiama Bit of History, quindi video a tematica musicale però a tematica 8-bit e siccome comunque questo è legato al festival anche l'innovazione al museo quindi dell'informatica allora mi sono un po' proiettato ecco su una scelta che riguardasse anche video a tematica appunto robotica, quindi la stessa informatica, la digital art e la computer grafica in generale quindi comunque abbracciato diciamo varie tematiche. I video erano disponibili, si potrebbero vedere nella sala conferenza, non so se ancora adesso sono proiettati, comunque erano molto belli. alcuni di questi riguardano, ricordi così non perché di parte ma ricordo forse l'ha detto un'intervista da parte di Fabio Kenobit qui presente, mi sa che forse era su Zero, leggevo che c'era un gruppo forse che con la CipTune ha qualcosa a che fare oggi, un gruppo italiano ed erano i popper. Adesso è PopX che ha fatto un sacco di botto e sono molto felice, io anni fa dicevo ma com'è possibile che PopX non sia assolutamente famoso, famosissimo e sono molto contento che adesso sia famosissimo, ha fatto un grande successo e però mi ricordo che aveva iniziato ai primi tempi a suonare nei party che organizzavamo con quello che ai tempi era ancora il collettivo Micromusic, c'era questo sito che si chiamava micromusic.net che era un sito globale e la scena 8 bit di quegli anni si raccoglieva intorno a questo sito intorno a dei cosiddetti headquarter, noi avevamo il headquarter di Milano e organizzavamo questi concerti e ai tempi avevamo fatto anche un sacco di date con PopX che poi adesso appunto ha sfondato e se lo merita tantissimo Infatti adesso in merito, in questo caso tu ti sei occupato della musica comunque CipTune quindi 8 bit ricordo tu dovresti essere un sound designer, abbiamo anche qui un esperto di informatica o comunque di videogiochi la domanda era un po' questa perché appunto il titolo di questa conferenza, di questa tavola rotonda era musica e scrittura come l'informatica, no scusate, dalla narrazione nei videogames comunque dalla narrazione nei videogames alla narrazione nel cinema, la musica come strumento di comunicazione noi ci occupiamo con CipTune quindi di musica nel cinema e in questo caso vogliamo capire un pochettino la musica, ecco che ruolo ha nei videogiochi, quindi qual è la differenza, qual è la sfida che incontra un compositore, un musicista, ecco nel realizzare comunque delle musiche da videogame ci sono per caso dei refrain, dei ritornelli simili a quelli magari presenti nel cinema che vengono ripetuti lungo tutto il videogioco, lungo tutta l'avventura dell'utente o sono completamente scollegati? Questa è un po' la prima domanda che farei e che rivolgerei Guarda io farei solo un cappello storico che secondo me la risposta a questa domanda cambia e probabilmente cambierà ancora nell'arco della storia dei videogiochi nel senso che all'inizio la musica aveva un ruolo vitale per dettare il ritmo di un videogioco e per dettare l'atmosfera perché il videogioco agli albori era fatto di poco ma anche banalmente uno dei primi giochi sonorizzati della storia Space Invaders aveva una scala cromatica che è questo fatto un po' lo squalo che serviva semplicemente a mettere ansia ma provate a giocare a Space Invaders senza quel suono, cambiava tutto ma anche poi subito nell'era successiva quando la grafica era ancora molto semplice la musica era molto più protagonista, poi con l'avvento del CD, con l'avvento di tutto il resto la musica ha assunto un ruolo un po' più da colonna sonora standard da cinema ma chissà come cambierà Sì, premetto che io mi occupo di sound design, non composizione in musica tutta la parte di progettazione del suono, dagli effetti sonori alle voci alla rumoristica però chiaramente devo interfacciarmi un po' con i compositori e dialogare con loro effettivamente così, c'erano anche dei problemi tecnici inizialmente che erano fondamentalmente di spazio, di quantità di dati a disposizione da dove nasce poi No, sì, ma anche per me lo sono, purtroppo lo erano per gli sviluppatori no, quindi ancora sui DVD c'era il grosso tema diciamo che stai usando il 3, 4, 5% di spazio per il suono in generale cerca di ridurre io no, sono giovane, sotto quel punto di vista non lavoravo ancora però era questo il tema fondamentale adesso non c'è più quindi la produzione è diventata produzione cinematografica cinematografica fondamentalmente è diventata, usiamo le orchestre di Vienna piuttosto che di inglesi e quindi anche perché è stata, cioè questo riguarda tutta l'evoluzione del videogame è stata introdotta la narrazione con un valore che ha un valore oggi importante quindi il ruolo della musica assume un valore narrativo che poi si sposa più con con quello cinematografico per un genere di giochi c'è tutto un altro genere di giochi invece che continua ad avere quelle meccaniche bellissime avere un tema di pochi secondi che suona nella tua testa per tutta la giornata fondamentalmente ed sono opere meravigliose secondo me giusto per fare la parte del teorico che rompe le palle in giro no nel senso un'altra cosa che mi sento ad aggiungere è che c'è una differenza principale tra il ruolo della musica secondo me nel cinema e nei videogiochi che riguarda poi sempre la natura interattiva del videogioco è che l'intera colonna sonora quindi fatta dalle musiche ma anche da tutti gli indicatori sonori che ci sono che poi spesso sono comunque composti perché non essendo il videogioco manca del rapporto con la realtà qualunque suono prodotto è un suono di fatto artificiale o ricreato o preso dalla... quindi gli indicatori sonori fanno parte di tutta una serie di informazioni che il giocatore ha per orientarsi tu non puoi... oltre al discorso che non puoi giocare Space Invaders senza quelle quattro note basse e poi è evoluto e che tu non... sfido io a giocare anche Metal Gear Solid e non sentire il rumore del codex che è la ridice trasmittente che ti avvisa che ci sono dei messaggi di chi ti deve raccontare la missione poi ci sono tutta una serie di suoni che sono diventati patrimonio comune della cultura dei videogiocatori dal momento in cui entri nella battaglia nei Pokémon al jingle della morte in Super Mario oppure anche semplicemente l'intro del livello insomma ed è vero che sta cambiando perché continuerà a cambiare il ruolo della musica ma il discorso che serve come informazionale giocatore per decodificare il mondo finto in cui si trova quello è un ruolo fondamentale che continuerà ad avere e che probabilmente si evolverà perché nel momento in cui io sarò immerso a 360 gradi nel mondo le orecchie saranno una bussola incredibilmente sempre più accurata e per questo secondo me il futuro della musica dei videogiochi è lavorare ancora di più sui suoni acusmatici sul ragionamento quasi in stile musica concreta possiamo dire ed è e si interfaccerà sempre più con il ruolo dei compositori che hanno libertà totale dal punto di vista creativo hai visto che hai detto le orecchie come bussola aggiungo che ci sono anche dei giochi che invece si incentrano totalmente sulla musica non come sottofondo ma come protagonista ci sono alcuni rhythm game i giochi in cui devi effettivamente eseguire tu la colonna sonora ma ci sono anche giochi interessantissimi c'era una piccola perla sperimentale di nintendo uscita ai tempi del game boy advance si chiamava sound voyager ed è un gioco pensato per giocare con gli occhi chiusi era sostanzialmente uno slalom in stereo tu dovevi fare questo slalom in uno spazio in un soundscape in uno spazio sonoro e l'unica cosa che avevi a guidarti era l'audio che avevi nelle cuffie all'inizio tu vedevi qualcosa sullo schermo ma poi spariva completamente e realizzavi che dovevi giocare con gli occhi chiusi e quindi c'è stata una fase in cui io dico sempre che ci siamo come liberati dal passato quando è uscita la playstation wipeout basta che schifo i suonini dei videogiochi adesso solo musica dei prodigi che per carità è bellissima ma c'è stato proprio un momento in cui abbiamo detto basta erano dei limiti solo roba orchestrale eccetera poi si era iniziato a sperimentare in quest'ottica ci sono giochi appunto ritmici giochi che rendono anche un esempio che cito sempre Rats un gioco di United Games Artists per Dreamcast nell'ultima era di Sega nel quale gli input del giocatore andavano di fatto a completare la colonna sonora rendendo con un dialogo molto bello sia a livello sonoro sia di gameplay insomma secondo me uno delle direzioni future è anche che quando non si fa un qualcosa di cinematico quindi quando nel nuovo God of War c'è una bella colonna sonora ma è appunto come dire la colonna sonora di Conan ma si può fare tante cose interessanti nel mondo dei videogiochi infatti avete anticipato un po' il tema che era questo della domanda sempre avanti infatti che riguardava proprio questo cioè delle scelte musicali che vengono da proporre ci sono dei criteri di selezione immagino per dipende anche da tipologia appunto dei videogiochi sono dei videogiochi come dicevamo prima gli RPG passando la sparatutto quindi probabilmente per ogni tipologia richiesta forse c'è anche un tipo di musica che è relativa a questo e oltre questo la domanda quindi che avete in parte risposto perché immagino appunto anche gli arcade gli stessi giochi che c'erano non gli arcade o i giochi sportivi hanno tutta una serie forse diversa però c'è anche un'altra domanda che riguardava il genere cioè specifico di musica verso cui eventualmente i compositori di queste conne sonore per videogiochi magari si rifanno cioè non so se siete debitori ad esempio chi si occupa proprio di comporre musica se per questo cioè ricordo un po' il tuo passato parlavi sempre in un'intervista che eri un appassionato di punk, hardcore ecco c'è qualcosa di questo di tutto ciò che tu puoi vedere e trasferire anche nella nella produzione poi musicale per le soundtrack nei videogiochi? Sì, allora faccio una nota personale io spesso vado in giro e faccio musica non per i videogiochi ma faccio musica con i videogiochi paradossalmente faccio cose con il Game Boy che poi ogni tanto sporadicamente sono state usate poi per dei videogiochi ma è un cortocircuito di un altro tipo e nella mia composizione personale il mio passato musicale traspare tantissimo nel senso ho un passato da batterista hardcore e quindi faccio musica martellante e potente però in generale anche se guardiamo la storia dei videogiochi questo tipo di influenze sono molto evidenti nella storia dei videogiochi giapponesi c'è stato in tutti i videogiochi degli anni 80 com'è? come non è? ci sono queste sviolinate fusion meravigliose se ascoltiamo i giochi konami c'è un po' di fusion e un po' di speed metal che erano le robe che andavano che andavano tanto ma anche la musica di Outran la musica di Outran è chiaro che il sound team di Sega ascoltava i Casiopea che sono questa band fusion di quegli anni lì in Giappone l'influenza c'è molto quando è free form nel senso quando tu quando ti viene chiesto di fare una colonna sonora ma sei liberissimo come eri libero negli albori dei videogiochi perché li paragono paragono spesso il periodo al punk perché potevano fare quello che volevano come ti è saltato in mente che per Gradius che è un gioco con un'astronave nello spazio bam fusion è strano perché gioco di corse fusion perché flipper speed metal c'è un gioco che si chiama Devil Crash per PC Engine che ha una colonna sonora trash metal praticamente dici come mai flipper è trash metal e così però oggi secondo me invece si è tutto un attimino a meno che non si parli di giochi particolari in cui il compositore ha il lusso di essere molto autoriale è tutto molto più cioè stai facendo un gioco di ruolo ti viene chiesta una colonna sonora ambient fantasy oppure orchestrale così a meno che poi non ci metti il synth pop anni 80 che negli ultimi giochi indipendenti è un più o meno ovunque che è un po' quella roba lì nel senso che adesso le mode culturali le vai a vedere spesso nel mercato indipendente perché se è vero come dice Fabio che soprattutto le grosse produzioni funzionano un po' come il cinema nel senso che o prendi un compositore particolare perché ci sono poi compositori specializzati nel mondo dei videogiochi che hanno un loro stile oppure è un po' più generico nel senso colonna sonora epica colonna sonora per esempio per direttore citato i giochi sportivi si prendono praticamente le musiche che sul licenza che piacciono al target di quel gioco o per esempio io amo molto sempre le colonna sonori di Madden NFL che è un gioco di football perché sono prese praticamente dall'archivio di ESPN e sembra davvero di stare allo stadio con la birrozza e il cibo spazzatura insomma poi comunque è più un ragionamento sul target poi invece nel mondo indipendente secondo me si vede ancora il discorso delle mode culturali e veramente in questo periodo di revival all'anno 80 che magari è anche un po' stufato però ecco il numero di giochi che hanno la colonna sonora synthpop cioè io dire è incontabile quindi diciamo che c'è ancora questa cosa solo che la vai a cercare in posti diversi poi per il resto è come appunto stiamo arrivando a produzioni in stile cinematografico quindi è molto più industriale il discorso secondo me oggi è molto più interessante quello che ci fanno con i suoni non tanto la colonna sonora e in quello secondo me lui ci può dire molte più cose interessanti ti passo la palla senza imbarazza grazie no vale spendere spendiamo due minuti per una parola importante coraggio anche certe volte di rompere delle cose perché wipe out che è stato prima citato visto adesso però ragazzi questi 25 anni fa investivano e proponevano dei prodigi Afex Twin Future Sound of London Orbital assolutamente assolutamente e questo questo manca noi devo dire stiamo cercando di farlo nel nostro piccolo nel nostro team per cui abbiamo una prima fase di produzione in cui sperimentiamo e proviamo le associazioni più assurde siamo un team indie quindi possiamo permettercelo però è importante secondo me anche provare a spingere un pochettino perché si possono scoprire delle cose nuove non sempre viene fatto visto anche un po' il tema di questo talk di questa tavola rotonda e stiamo facendo sta arrivando la pigrizia che c'è nel cinema per cui un linguaggio ormai confermato sappiamo che il pubblico se guarda un film horror esatto si aspetta quello e quindi il producer il regista dice no quello però poi l'indie e questa nuova ondata è in tutti i media che ci sta dando delle opportunità che noi che produciamo dobbiamo anche avere il coraggio di sfruttare per proporre nuove cose infatti ti cito due esempi perché tu hai detto Wipeout un gioco coraggioso verissimo ma poi com'è come non è ogni tanto nella storia dei videogiochi c'è qualcuno che fa delle mosse coraggiose e non a caso sono dei giochi che ricordiamo per la colonna sonora del synthpop della della new retro wave io la preferisco chiamarla new retro wave perché il synthpop è quello bello la new retro wave è quella che ha rotto le palle in tempi non sospetti cioè adesso è tutto new retro wave è tutto con quell'estetica neon che è stanca secondo me ormai ma anni fa prima che il mondo si accorgesse dell'esistenza di Mitch Murder di Perturbator di tutti questi artisti che sono stati poi gli artisti della new retro wave esce Hotline Miami esce Hotline Miami e come non è tu oggi Hotline Miami te lo ricordi uno perché era un gran gioco ma per la colonna sonora che era una colonna sonora che coglieva un'estetica poi appunto così potente che ha per certi versi secondo me addirittura inquinato gli anni successivi perché tutti sono sentati su quel carrozzone ma ti cito un altro esempio virtuoso secondo me che è Katamari Damashi un gioco che esce con un'estetica particolare matta completamente matta e una colonna sonora senza ne capo ne coda pezzi disparati in un genere nell'altro robe che fanno strane robe che suonano benissimo robe di elettronica sperimentale roba a cappella eccetera e appunto anche in quel caso una colonna sonora non coraggiosa di più e ce la ricordiamo perché è una cosa che viene citato ancora oggi e di recente ho fatto un DJ set di solo videogiochi al Comic Con di Napoli o quando ho messo Katamari Damashi si sono tutti presi bene come non è sì vi dico qualcosa infatti che è legato proprio a questa questa discussione che stiamo a prendere su questo stile musicale che è su questo genere che è comunque infatti il synth pop rispetto a retro questa sorta di lotta tra le due perché è interessante notare infatti avevo visto che uno di questi celebri compositori che è Masaharu Iwata che io conosco soltanto per i videogiochi che poi per le colonne sonore che ha firmato per questi videogiochi che sono Final Fantasy era parecchio interessato alla musica synth pop infatti di The Yellow Magic Orchestra di cui appunto Celeberry conosciamo appunto Ryuki Sakamoto per questo volevo anche capire un attimino cioè i compositori abbiamo da vedere i compositori della musica per colonne sonore quindi nei film come dei compositori di musica classica quindi pensiamo appunto il nostro stesso Morricone è interessante notare però come compositori in questo caso avevo segnato il nome di Manabu Namiki che aveva realizzato anche lui le musiche non so Thunder Dragon 2 Full Metal Alchemist Bleach perché adesso si cerca anche di notare come questo è rimasto un po' dietro perché si sa che non gioco più da un po' di tempo con i videogiochi che adesso si intrecciano un po' le storie degli anime con tutto il discorso con i videogiochi e quindi è più facile che a spingersi sto dicendo appunto il nome di questo Manabu Namiki perché lui stesso è un artista un musicista di Chiptune comunque Chiptune Music come un altro che Joseph Van Wissem ho segnato ha realizzato la musica per il videogioco era The Sims The Medieval Sims questi artisti che comunque Joseph Van Wissem ha vinto anche a Cannes ha vinto comunque il premio come miglior con una sonora al festival per la conda sonora del film come si chiamava non solo gli amanti sopravvivono ecco è più facile quindi che per la creazione di questa musica cioè anche per i videogiochi che sembra un po' un'attività ludica ecco comunque di diversione ci può essere però che c'è un percorso personale dell'artista stesso un po' più innovativo più avanguardistico quindi di esplorazione verso codici che non sono già già segnati o già visti in passato quindi proprio qualcosa che va oltre le aspettative quindi non si va più solo sulla classica ma si va anche su qualcosa di nuovo linguaggio del tutto nuovo guarda ti apro perché hai citato la Yellow Magic Orchestra che secondo me se stiamo parlando di musica di influenze di crescita dei compositori in particolare giapponesi nel mondo dei videogiochi la Yellow Magic Orchestra è l'evento culturale più importante della storia del Giappone nel senso che tutt'oggi i salaryman gli impiegati che sono la generazione dei cinquantenni ormai cinquanta e sessantenni hanno un preciso taglio di capelli che è il techno cut il taglio techno che era il taglio di Ryuichi Sakamoto Ariwami Osono di tutta la Yellow Magic Orchestra della Yellow Magic Orchestra spesso citiamo Sakamoto perché ha fatto le cose più più famose eccetera ma in realtà erano tutti matti geniali e hanno avuto in particolare per la musica dei videogiochi giapponesi un peso pari a quello che hanno avuto i craftwork nell'elettronica occidentale perché erano così tanto famosi così tanto forti così tanto bravi e così tanto rivoluzionari perché comunque venivano sono stati il volto del Giappone futuristico techno sono stati i primi a fare questa musica elettronica in questo modo e tra l'altro erano avanti consiglio di ascoltare tutta la discografia della Yellow Magic Orchestra sempre assolutamente assolutamente e però tu più ascolti la musica della Yellow Magic Orchestra più senti la loro impronta su tutti i compositori giapponesi in particolare che poi hanno visto che il videogioco giapponese è stato importantissimo per certi versi da tuttora hanno poi lasciato un'impronta su tutto quello che noi consideriamo la musichina dei videogiochi la musica dei videogiochi poi appunto ci sono di tanto in tanto dei dei compositori che vanno oltre che a partire da un tot di influenze fanno vanno in territori inesplorati spesso anche grazie al videogioco che ti permette di fare cose che non puoi fare con un sintetizzatore normale nel senso nel momento in cui per esempio RETS nel momento in cui tu metti parte della colonna sonora nelle mani del giocatore tu ottieni qualcosa che con un computer normale non puoi programmare per passare invece al mondo occidentale dove magari in realtà è meno diffusa la crescita o meglio il fenomeno culturale di massa o comunque la crescita di una scena perché comunque siamo più nella produzione un po' più industriale proprio di base soprattutto negli ultimi anni però quello che secondo me sto notando è che ci sono compositori che nascono con i videogiochi e da lì poi in realtà portano in altre forme di intrattenimento la loro esperienza e secondo me uno dei più interessanti compositori che ci sono in occidente è Austin Wintery che per molti conosceranno Journey come gioco di Sony una figata del gioco di Death Big Company che poi prodotto da Sony è un viaggio emotivo poi lui alla fine ha lavorato dal mondo indipendente poi è arrivato a fare le musiche per un Assassin's Creed Syndicate che è un episodio un po' sfigatello della saga perché è uscito in un momento particolare però ecco se tu vai a sentire la musica di quel gioco rispetto agli altri Assassin's Creed c'è un lavoro fatto completamente con archi e con pianoforte e poi tutto un tappeto elettronico che riprende sì lo stile della saga che ha questo tocco fantascientifico però lui in realtà fa quello che vuole e segue il suo stile che è uno stile particolarmente emotivo perché lui è abituato a fare i cosiddetti walking simulator o comunque delle avventure particolarmente emotive dove la musica fa da diciamo ad accompagnamento quasi conduce il giocatore anche a livello emotivo verso un determinato risultato lui l'ha applicato in un mondo in un open world ha applicato uno stile straniante per certi versi se ti aspetti la classica musica da film e poi Wintory adesso è un musicista che fa le sue cose e viene chiamato anche dalle serie tv oppure da altre insomma da strutture di intrattenimento diciamo più canoniche però è uno che lavora principalmente con i videogiochi quindi diciamo che c'è adesso c'è un mondo il discorso è che secondo me l'intrattenimento si sta l'intrattenimento è uno e ci sono professionisti che lavorano nei film piuttosto che nei videogiochi e poi fanno la loro ricerca personale secondo me l'oriente in questo sta avanti per la natura in cui i videogiochi arrivano e come sono nati l'occidente però ha dei momenti secondo me molto molto alti sì aggiungo solo che in effetti vuoi perché il mondo dei videogame è nato chiaramente in una decada diversa però ci sono delle opportunità meravigliose e nascono anche dagli strumenti che sono a disposizione Anria l'uno dei game engine più utilizzati in una delle sue ultime degli ultimi update rilascia una nuova versione del motore audio che include un sintetizzatore che si può utilizzare in real time quindi questo già mette espone anche tutti gli altri sviluppatori non per forza il team audio a dire ah hai visto che c'è un sintetizzatore che si può utilizzare in real time fammi provare a fare quindi a sensibilizzare anche dicevo prima lui la parte dura del nostro lavoro o parte del nostro lavoro è di educare educare che esistono generi musicali diversi che esistono estetiche sonore diverse in effetti sì esiste un mondo che non arriva dalla musica romantica che è poi diventata musica cinematografica e i videogame anche proprio per tutto l'aspetto real time sono un'occasione stupenda davvero adesso partiamo forse da parte della produzione quindi forse interessa un po' più te non lo so in generale ma ho letto spesso che ci sono questi compositori di musiche per videogiochi che comunque non spesso e volentieri collaborano diciamo più compositori per metterci un po' la firma il motivo è dato dalla complessità dell'opera in quanto tale cioè come funziona c'è poi anche la suddivisione specifica proprio delle attività del lavoro so che magari è un po' lunga come questione ma vista da uno che è da fuori evidentemente ha sempre pensato che c'è un compositore unico che realizza la colonna sonora in questo caso magari è un po' diverso poi anche il fatto ad esempio non so se questo può permettere quindi la figura del musicista che deve operare per i videogiochi se permette una maggiore libertà il videogioco rispetto appunto come stavano prima proprio le case di produzione dei videogiochi o se deve essere un lavoro diciamo svolto dall'interno quindi ci si può affidare come compagnia magari a dei freelance a delle persone comunque dei professionisti esterni alla casa di produzione o piuttosto è gente che lavora quindi proprio direttamente sotto la sotto leggi in questo caso del produttore aspetta Sinteti sto facendo il riassunto ok allora a differenza del mondo cinematografico il mondo dei videogames è molto più orizzontale quindi il mondo cinematografico è regista e produttore tutta una struttura molto gerarchica e anche da un punto di vista musicale così cioè il compositore che si è affermato c'è Ennio Morricone c'è Nino Rota c'è Hans Zimmer quindi molto molto verticale il mondo di videogames anche proprio per come sono realizzati per il lavoro che c'è dietro effettivamente più orizzontale questo secondo me spiega in parte già uno dei motivi per cui si lavora in più i compositori poi c'è un aspetto più tecnico che è anche soprattutto nei team indie oggi si inizia non solo più a comporre a creare dei contenuti ma anche a integrarli quindi a definire la logica secondo la quale si deve comportare la musica o il suono e questo fa sì che comunque il lavoro che secondo me è giusto nel senso che non solo il compositore deve comporre la musica ma deve prendersi anche nel videogame la responsabilità di dire definire un minimo di logiche secondo le quali devono comportarsi che secondo me di nuovo è una delle opportunità fantastiche di cui stavamo parlando prima questi sono un po' i due motivi grossi poi ce ne sono altri sicuramente economici politici i grossi nomi rimangono i grossi nomi avete citato compositori la base devo affermare il mio nome fondamentalmente quindi magari utilizzo quattro ragazzi che mi aiutano a orchestrare a scrivere le partiture ma il nome è mio e quello c'è ed è giusto che sia così però secondo me questi due punti sono un po' i più interessanti quindi l'aspetto la dimensione del gioco è il fatto che la struttura dei videogame sia molto più orizzontale e se ci si apre il dialogo con gli altri membri del team dalla scrittura agli sviluppatori il dialogo diventa molto interessante ci sono degli esempi molto belli Inside è un gioco in cui il suono e la musica lavorano in una maniera ci sono delle meccaniche di gioco che partono dal suono e questo vuol dire che c'è stato un bel dialogo tra il sound designer e chi si occupa del game designer o level designer e via dicendo poi un'altra cosa giusto per aggiungere mi viene da pensare pensando al cinema che poi alla fine anche molto spesso i grandi compositori non è che lavorano da soli quindi c'è il discorso come diceva lui e poi c'è la firma c'è una cosa che mi ha sempre fatto molto ridere quando studiavo cinema è che il caso dei pirati dei caraibi se tu vai a vedere il tema principale il primo Hans Zimmer non lo firma ed è Klaus Badelt credo il tema dei pirati dei caraibi diventa una cosa virale guarda un po' Klaus Badelt che è un assistente di Hans Zimmer dal secondo pirati dei caraibi lo stesso tema è firmato a Hans Zimmer nel senso quindi è evidente che la colonna sonora dei pirati dei caraibi l'abbiano fatta Hans Zimmer Klaus Badelt e chissà chi altro però alla fine poi il nome è uno credo che poi nel discorso dei videogiochi poi entra in gioco anche la necessità di avere a volte un soundscape molto più complesso per dire mi viene in mente sempre un altro gioco musicato da Austin Winter mi è venuto in mente prima mentre lo dicevo che è Sunset che è ambientato in Sud America che è tutto un lato di musica è ambientato il protagonista del gioco è una donna delle pulizie è una casa di un politico coinvolto in una rivoluzione tu guardi la rivoluzione attraverso i turni delle pulizie quindi hai bisogno tutto di una serie di suoni naturali e poi hai bisogno ci sono i vinili in casa anni 70 e quindi ci sono delle musiche che sembrano uscite dal Sud America anni 70 e non sono tutte di Wintory che ovviamente ha lavorato con altri compositori o comunque con altri artisti che fanno quel genere però lui ha coordinato tutto e quindi ci sono più nomi e anche questo cioè quello che facevo dicevo all'inizio di suoni acusmatici tutto questo lavoro di costruire un soundscape spesso e volentieri non lo puoi fare da solo hai detto soundscape citiamo anche l'altro lato di questa storia che è di recente è uscito un gioco di recente un annetto for my un gioco meraviglioso che si chiama The Witness The Witness è un gioco senza musica del tutto senza senza musica nel quale gran parte del budget dell'audio del gioco è andato ai tipi di rumore diversi che facevano che fanno i tuoi passi cioè è un gioco in cui cammini molto in quest'isola misteriosa a risolvere enigmi e c'è una qualità e una varietà pazzesca a livello ambientale ma anche a livello di materiale cioè proprio hanno fatto la differenza tra calpestare le foglie secche e calpestare le foglie secche ma appena piovuto ci sono dei ed è un esempio molto molto interessante di come appunto anche esulando dalla musica il sound design o anche solo appunto la tecnica di registrazione anche perché poi dietro a queste cose non dimentichiamo mai che c'è anche un programmatore perché per fare il rumore della macchina in un videogioco di macchine non basta registrare il motore di una Ferrari perché se no tu registri il motore della Ferrari come ha accelerato nel momento in cui l'ha registrato ci sono dei grossi lavori di programmazione di coding di scripting proprio per definire come funzionano alcune cose che sia un motore che siano delle foglie che sia sviluppare un sistema per calcolare in tempo reale il riverbo delle stanze di gioco senza dover rifare tutto insomma c'è un mondo molto interessante anche in quello grazie infatti mi ha fatto pensare un po' adesso anche tu e prima Paolo il fatto comunque di tutti questi suoni che devono essere magari ripresi o anche inventati da zero quindi anche artificiali che rispetto anche al cinema ecco si usa un linguaggio critico cinematografico estetico si parla appunto di rumori o comunque suoni che sono intradiegetici oppure extradiegetici quindi all'interno della scena può capitare che mentre si riprende comunque ci sono dei rumori che tu poi lasci lì comunque all'interno della pellicola e poi la musica magari viene lasciata sullo sfondo perché poi viene inserita con tutte le fasi di montaggio ecco rispetto però appunto al videogioco è tutto lì sta tutto lì cioè il videogioco è tutto extradiegetico è tutto creato praticamente all'esterno della storia quindi si vanno a inserire poi questi pezzi questa è una cosa un po' sull'estetica sulla critica che mi ha fatto un po' pensare adesso tanto per però su invece per quanto riguarda poi ecco il pubblico gli utenti dei videogiochi cioè devono prestare attenzione alla colonna sonora cioè può essere un fattore cioè disturbante o è parte integrante prima era stato accennato cioè no all'esperienza ludica o piuttosto quindi anche la ricerca del compositore di rendere delle delle musiche più orecchiabili ecco quindi più commerciali rispetto piuttosto a delle scelte più alternative più di nicchia ecco comunque che possono anche anche disturbare in quanto tale l'utente ci sono alcune musiche classiche come gli arcade diciamo che servono a caricare cioè a farti mettere sti gettoni dentro dentro le macchinette quindi in qualche maniera ti devono caricare effettivamente devono rilasciare scaricare l'adrenalina ecco quindi o anche essere ossessive ecco essere ossessive quindi c'è questa cosa cosa può predominare nell'ambito dei videogiocchi rispetto alla colonna sonora nel cinema beh visto che la musica è il suono diciamo il suono perché può anche essere non musica può essere solo suono è una componente vitale di qualunque qualunque videogioco anche scegliere di fare un videogioco muto è una scelta di sound design precisissima visto che visto che un elemento della comunicazione può essere tarato in tantissimi modi diversi e appunto il compito in alcuni casi può essere come in un film fai una colonna sonora invisibile una colonna sonora che è costantemente in armonia con quello che sta succedendo se ne sta pacifica sullo sfondo se non ci fai caso non te ne accorgi nemmeno e magari non ha nemmeno è più fatta ad archi cose appoggiate non ha un tema riconoscibile oppure può essere andando dalla parte completamente opposta fai una musica che ti prende a schiaffi che che si mette in primo piano oppure anche lì come nel cinema può esserci il momento in cui c'è uno uno stridio tra quello che vedi e la musica e diventa tutto un discorso di montaggio e abbinamento esattamente come quello che c'è nel cinema con la differenza che a volte i videogiochi hanno il lusso di essere più matti perché è un mezzo che in alcuni casi in alcuni casi sembra il cinema guardiamo guardate God of War nuovo molto bello è una cosa che sono giochi che hanno preso una pagina dal cinema in alcuni casi invece sono giochi che fanno cose completamente matte che possono fare solo i videogiochi poi è interessante perché a volte queste cose che vengono fatte solo dai videogiochi hanno di rimbalzo rinfluenzato il cinema e succedono cose di quel tipo che si vede più nel cinema cioè autoriale difficile sperimentale quello proprio a volte è anche insopportabile prendo a caso uno dei film di Lynch ad esempio a volte che diventano anche questo scompenso di l'entra appunto tra quello che è comunque il suono che tu percepisci e le immagini che stai vedendo quindi le distorsioni totali che a volte appunto estraneano cioè mettono sull'alienazione spinta l'utente finale questo è possibile da vedersi quindi al cinema solo in pochissimi casi però per darti a vedere adesso qui al Torino Film Festival non so cosa mi ricordo c'era una selezione curata appunto da alcune persone del Torino Film Festival che aveva un nome particolare forse Onde non mi ricordo che comunque è una selezione proprio di film dove i linguaggi cioè visivo da quello comunque sonoro tante volte risultano in conflitto proprio per disturbare in questo caso allora era chiedere o uno va in queste selezioni quasi da matti appunto li trovi tu da sola a vedere questi spettacoli o piuttosto sono per lo più però poi invece con le sonore l'accompagnamento come diceva infatti Stravischi tipo già 50 anni fa diceva il cinema dovrebbe c'è la musica da cinema dovrebbe essere quasi come il cameriere che in silenzio arriva lì comunque in un caffè teatro quindi in silenzio quasi in sordina come funziona invece quindi questo ma secondo me funziona più o meno il discorso è che stiamo sempre parlando di un perotto creativo quindi c'è alla base una volontà una volontà creativa che a volte come accade in tutti i settori è più commerciale o meno commerciale o vuole semplicemente raccontare qualcosa oppure farti provare delle sensazioni strane proprio parlando di cinema mi piace ricordare la teoria della funzione del suono empatica in empatica di Scion è la stessa roba nel senso che il classico esempio da manuale è la scena di 2001 di stare nello spazio con il Danubio Blu durante le battaglie prendi uno sparatutto di qualche anno di vent'anni fa come Einhander di Squaresoft che era la casa che fa Final Fantasy improvvisamente impazzirono fecero uno sparatutto che recuperava tutta l'estetica dei giochi fondamentalmente 80-90 e c'è un livello in cui tu entri entri dentro una base sostanzialmente stai sulla luna e la musica diventa rarefatta e ti dà da un lato ha una funzione empatica che è quella di farti percepire l'ambiente però togintanto stai sparando come un matto come un disperato e sperando evitando i colpi quindi c'è una frizione e ci sono esempi di questo genere io credo che da un certo punto di vista il videogioco in questo sia più libero perché hai uno spettro di pazzia tollerata e tollerabile molto più ampio però le logiche sono le stesse perché sono le logiche di un prodotto creativo che ha il problema e l'opportunità come dicevi tu che non esiste la differenza tra diegetico e extra diegetico ma in realtà è tutto frutto di una scelta perché la diegesi esiste anche nel videogioco se noi facciamo il videogioco e prendiamo un mondo fantasy virtuale se io se io casto una magia quello è diegetico perché lo sto facendo è un suono che sentono tutti nel mondo virtuale però è una scelta perché lo posso anche totalmente eliminare e secondo me c'è un livello di controllo talmente alto che poi può dare tantissime opportunità creative però le logiche sono sempre le stesse perché sono frutto di scelte creative rispondo alla domanda tra l'altro interessantissima perché è un temone di questi giorni però magari più sull'aspetto del sound design qualche anno fa una una foley artist una rumorista americana disse una frase la cito perché è americana non è correttissima la cito perché è donna e dice sound design è come il trucco per le donne se lo noti c'è qualcosa che non va che si avvicina un po' al cameriere ed è vero cioè quando quando io registro un passo o un suono in particolare nessuno nota i passi di un film o di un gioco nessuno dice ah guarda che bel passo ma il passo ti dà l'intenzione è un soldato è è una persona nervosa è una camminata arrabbiata è una camminata timida dà tanto carattere perché lo usiamo tutti i giorni l'udito ed è uno dei sensi di cui non ci possiamo privare praticamente quindi nella nostra esperienza nel subconscio ce n'è tanto c'è tanta esperienza e noi notiamo se c'è qualcosa che non va e questo è secondo me un po' un po' un po' la risposta a questo l'altra l'altra l'altro tema è invece sulla io ho lavorato e lavoro tutto ora arrivo dal cinema quello che ho notato nel mondo dei videogames è una un approccio completamente diverso nel senso che c'è molta più attenzione da parte degli utilizzatori sono molto più critici molto più attivi nel cinema non c'è non c'è nessuno che verrà a dirti ah ma sai non mi piaceva oppure gran lavoro a parte gli amici e i familiari invece in videogames c'è su Redout su cui un gioco su cui ho lavorato l'anno scorso ci sono migliaia di recensioni sulla musica e suoni quindi questo è molto bello vuol dire anche che il pubblico è molto più attivo molto più e quindi deve alzare il livello dobbiamo alzare il livello noi una piccolissima cosa proprio quello che un po' collega il suo discorso con quello che diceva lui riguardo anche il gameplay insomma la musica è sempre è costantemente utilizzata dal gioco 3 noi non abbiamo un feedback fisico quando giochiamo il suono diventa il feedback fisico i passi di The Witness ma parlando invece di un gioco totalmente commerciale come Overwatch che è un gioco competitivo non c'è una musica perché perché tutti i suoni ogni personaggio ha un sound set diverso integrato in maniera diversa perché chi gioca a livello competitivo deve decifrare dal suono dalla posizione del suono e quindi dalla spazializzazione del suono deve decifrare quello che sta succedendo dall'altro lato della mappa il suono è probabilmente è vero che in un videogioco spesso noi parliamo come qualcosa di tattile perché hai la vibrazione ma perché simuli cose però in realtà il feedback fisico è dato dal suono e la sospensione di incredulità per cui io dico sono in quel mondo spesso è data da quello avrei finito non so se abbiamo anticipato i tempi o piuttosto non so adesso Elia doveva forse anche lui concludere come ha appropriato dalla fine forse sì non so che ore sono tutta questione di ritmo e lunghezza la musica quindi alla fine ci rientriamo va bene Elia doveva fare l'ultimo intervento probabilmente non so se qualcuno è ancora sopra comunque noi ci siamo penso che abbiamo finito sempre se non volete ancora sviluppare altre tematiche dovete fare domande al pubblico scusate infatti tranquillamente qualcuno aspetta avete parlato molto di giochi anche a livello indie eccetera eccetera come ad esempio Journey che è basilarissimo a livello di musica purtroppo non l'ho giocato ma ne ho sentito parlare quasi solo per la musica altri giochi come Life is Strange o cose del genere che sono comunque rappresentati in gran parte sia dalla storia ma soprattutto dalla musica quali sono state le impressioni che avete avuto da addetti ai lavori ha segnato magari in qualche modo la produzione successiva secondo me c'è un fenomeno che esula quasi dalla musica che risponde alla tua domanda in questo momento nel senso che il mondo il fatto che adesso chiunque con un computer possa fare un videogioco volendo l'esplosione degli studi indie ha creato da un lato tanta varietà ma dall'altro ha creato anche tanta sudditanza nel senso secondo me ogni volta che c'è un gioco che fa un grande successo e che ha una e che questo successo è in parte attribuito anche alla musica vedi Hotline Miami vedi Life is Strange vedi Journey vengono più visti come come storie di successo con qualcosa da imitare che come con precedenti culturali secondo me e questo secondo me è il grosso problema del mondo indie in questo momento perché appunto è un mondo così affollato che in alcuni casi si va a sfumare il confine tra guerra dei poveri scelta artistica poi tu hai citato appunto due giochi paradigmatici per un Journey che è bellissimo hanno provato a fare la stessa cosa con un gioco che per esempio a me è piaciuto ma è evidentemente la copia downgradata di Journey che è Abzu qui c'è lo stesso compositore e anche lo stesso modo di fare le cose secondo me è un gioco bello per tanti motivi culturali però te lo vanno a raccontare come Journey e c'è un problema perché Abzu ha una ricchezza incredibile fatta anche dal punto di vista tecnico il fondo del mare il modo in cui vengono mossi migliaia di pesci sul fondo di maria insomma ha un gioco mirabilissimo però ecco c'è la sindrome di Journey e così come su Life is Strange si inserisce in un contesto culturale che in Life is Strange hanno fatto un'opera sul sonoro figa perché hanno preso il musicista giusto ma non l'hanno preso sono andati su iTunes evidentemente hanno passato i giorni a sentire tutto quello che il panorama indipendente un po' hipster aveva ad offrire hanno trovato questo cd di Seed Matters che è un cd normalissimo che però funzionava perfettamente nella scena che secondo me ti c'è quasi un opening shot cinematografico in Life is Strange c'è proprio l'establishing shot che nel tu vedi gli armadietti c'è questo movimento lento c'è la musica di Seed Matters che è American Girl quella e lì tu sei andato completamente se ti riconosci minimamente in quel clima adolescenziale o in quel clima culturale tu non ti stacchi più dal gioco bastano 10 secondi ed è una scena totalmente pensata a tavolino per creare quell'effetto mentre i giorni è proprio invece un viaggio emotivo in cui la musica ti guida quello come dicevamo prima sono scelte creative da detti lavori tu in quei casi non puoi fare altro che apprescindere applaudire e poi cercare di raccontare al meglio possibile io che faccio il giornalista il problema per raccontare tutti quelli che imitano e tu devi cercare di dire perché non funzionano allo stesso modo o perché funzionano o perché hanno altre ricchezze quindi è un problema di come la si racconta dopo è bellissima questa cosa mi emoziona nel senso che si chiude il cerchio perché poi noi quello che noi dobbiamo fare in preproduzione è anche lottare farsi venire dei mal di pancia per rompere questi meccanismi qui diciamo si avvora molto per reference diciamo hai visto quello guarda vediamo e no per quello che dice a lui mi fa piacere voglio dire perché certe sere si torna a casa col mal di pancia perché veramente fai delle lotte per far capire che non è una musica ma è un'associazione di meccanismi e di dinamiche che funzionano che è la base del pensiero creativo nel senso che non è trovata una formula la replichiamo ma è trovare gli elementi adatti per la tua cosa quindi di nuovo coraggio che è stata la prima parola provare a portare un po' più di autorialità che è più difficile nel mondo dei videogames l'autorialità è più difficile forse anche per la struttura perché infatti è un pochettino più un processo meno spontaneo almeno per quella che è stata la mia esperienza si salve parlo da non videogiocatore da semplice amante di musica che però comprende il medium comprende il fatto che in questo momento nei videogiochi ci sono tanti soldi ci sono grossi budget e quindi ci sono anche grossi artisti che collaborano in queste grosse produzioni però allo stesso tempo a differenza del cinema in cui magari una musica una composizione è quasi una commessa una cosa da fare che commenta il film poi sono commesse bellissime per carità un gioco che ho conosciuto per caso un indie che è Undertale per me quello è uno dei più grandi esempi in cui la musica è importantissima perché lì il programmatore non era tanto programmatore quanto era un pianista era un musicista e quindi si parla di un gioco molto scarno molto comunque basilare che senza quella musica che è bellissima non avrebbe minimamente quel fascino e quindi in questo senso credo che quello che ha detto lui che debba essere un lavoro molto orizzontale in cui il musicista deve partecipare al lavoro di produzione sia il modo in cui potremmo avere delle opere fighe a livello di composizione cioè che ti ricordi che compri che non rimangano soltanto come commento e in questo senso il videogioco per me poi e lo dico da non videogiocatori non gioco più da quando ho la Playstation 1 quindi volevo dire solo questo solo una per legarsi a questo discorso sono un sound designer anche io da un po' di anni ho avuto la fortuna sfortuna di lavorare per una grossa azienda che si chiama Ubisoft e poi sono passato nell'indipendente e lavorando a Ubisoft Montreal Canada abbiamo ho visto schiavolo proprio la produzione quando si parla di soldi ci sono grandi soldi in dipartimento di sound design siamo sulle 55 persone e mi dispiace dirlo ma non c'è creatività non e non c'è orizzontalità neanche non non c'è mai stata in quelle grosse aziende come Ubisoft non non c'è quella la spontaneità che ci può essere nell'indipendente che poi ho visto sono andato a lavorare per un'azienda che produce solo sound design e musica lavorando solo per compagni indipendenti quindi a volte secondo me dal cinema sarebbe di collegarci al cinema la cosa la differenza più grossa tra l'indipendente del videogames e l'indipendente del cinema secondo me è anche la grande differenza che nell'indipendente dei videogames ci sono altrettanti una grossa quantità di soldi che non 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 credo non cado valga la stessa cosa per l'indipendente del cinema questo dicendo che i studi indipendenti di videogiochi sono comunque tra i 10-20 persone e lì diventa tutto molto più orizzontale anche se c'è una grossa quantità comparata al cinema è grossa un videogioco indie lo fai con 2 milioni di dollari in Nord America parlo un film cortometraggio indie in caso lo faccio con 2 milioni di dollari però c'è molta più spontaneità quello che ho visto nella mia esperienza la mia piccola esperienza lavorando a Ubisoft poi passando all'indipendente la creatività la spontaneità nasce molto più di lì poi sicuramente ci sono il top del top a Ubisoft gli audio director gli animatori i programmatori gente che prende una barca di soldi però la creatività nella mia piccola esperienza passa molto molto in secondo piano l'essere orizzontale secondo me dipende anche non era solo gerarchia e anche nei processi sta cambiando ultimamente ma nel cinema fino a un paio di anni fa io iniziavo a lavorare quando il montaggio era chiuso finito e non c'era più e iniziavo a montare il suono questo faceva sì che il processo non fosse orizzontale fosse verticale cioè montatore video montatore del suono senza iterazioni senza niente adatta tu quello che puoi fare cioè il mondo di videogame già il fatto che ci siano iterazioni rende tutto apre un dialogo quindi non è solo l'essere verticale tu hai lavorato per insomma una multinazionale è già il fatto che eravate in 55 il suono è il 7% del budget più o meno statisticamente questo vi dà le dimensioni di quello che eravate in 55 cioè sui film grossi a Hollywood adesso insomma si lavora non si arriva a 55 quindi questo cioè tu dici forse nei tuoi processi tu avevi sicuramente dei tuoi superiori però i processi sono molto più c'è un dialogo molto più aperto anche da un punto di vista produttivo nel cinema non c'è e non c'è perché si arriva da degli schemi mentali che ancora si fa fatica e delle volte io ho dovuto cambiare delle cose perché il montatore video delle scelte che avevo fatto io perché il montatore video diceva no secondo me non funziona e dico ok ma lui è montatore video io faccio il mio però il montatore video siccome lavora 4-6 settimane a stretto contatto con il regista crea un rapporto più forte e quindi ha un valore politico diverso e questa è la gerarchia che c'è nel cinema che invece secondo me nei giochi è un pochettino più piatta io volevo toccare il tema dell'autorialità che è vero da un lato se guardiamo le produzioni grosse l'autorialità nel videogioco tende molto a sparire ma anche se parliamo di anche esulando dalla musica parliamo di prendiamo un qualunque videogioco il gioco che è fatto da quello là è molto raro sono pochi i game designer che hanno mantenuto la loro autorialità Hideo Kojima è quello di Metal Gear Solid ma chi è il game designer del nuovo Assassin's Creed? Bo? questo è un fenomeno inevitabile nel senso più una produzione diventa appunto con 55 persone sull'audio ma io per esempio so anche che Ubisoft lavora non solo con centinaia di persone ma spesso un singolo gioco è fatto da più studi nel mondo cioè una parte viene fatta Shanghai una parte viene fatta così ovviamente questo è un meccanismo da blockbuster perché per fare un Assassin's Creed ci vuole un delirio di persone questo è un processo che affonda l'autorialità cosa che invece era fortissima negli albori dei videogiochi quando i videogiochi erano fatti anche le grosse produzioni dell'epoca erano fatte da poche persone quindi c'era un compositore musica di Rob Abbard musica di Nobuo Uematsu game design di Paul Norman l'autorialità è una da un lato è andata un po' perduta nel mondo dei giochi a triple A è raro che qualcuno se la riesca a ritagliare ma anche tanto nel game design quanto nei compositori di recente parliamo di Ubisoft perché è un bellissimo esempio di recente è uscito Mario versus Rabbids bellissimo gioco quello è un raro caso in cui da uno studio grosso da una produzione grossa di Ubisoft esce il nome del compositore Grant Kirchhoff è abbastanza raro perché spesso il compositore gli viene data meno rilevanza o non è un compositore nel senso sono tanti tanti compositori e in quel caso l'autorialità viene molto diluita però tu citi Undertale assolutamente cioè ci sono dei giochi in cui che sono piccoli in quanto piccoli solo perché indipendenti quindi come produzione che sono hanno una forte autorialità ed è quella la loro caratteristica io cito anche Fetz Fetz è un gioco con una colonna sonora fuori scala incredibile ed è una persona è Disasterpiece che l'ha fatta ma questo io in questo vedo vedo un parallelo con con il mondo del cinema il mondo di tutto il mondo dell'intrattenimento che se tu vai a vedere il blockbuster è tutto per le masse se tu invece ti vai a cercare il prodotto più piccolo è trovi appunto trovi più l'autorialità trovi più l'autore la particolarità la scelta la scelta udace e appunto ti imbatti in se vai oltre Call of Duty scavi un pochettino ma non serve neanche scavare così tanto perché la cosa bella di internet è che c'è un tam tam fantastico per cui un gioco come Undertale essendo eccezionale emerge anche dal mare magnum dei giochi indie e ti arriva l'autorialità c'è c'è il problema è che è difficile nel senso se era più facile ai tempi del Commodore 64 perché la gente che faceva videogiochi era molta di meno e era facile farsi notare adesso è molto difficile essere autoriali e secondo me ci sono per ogni Undertale che c'è ci sono altri 20 Undertale con una colonna sonora altrettanto autoriale con un game design altrettanto autoriale che non vengono scoperti e questo perché nel mondo dei videogiochi tu dicevi c'è un po' 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 c'è così tanta gente che compete per un mercato che comunque per quanto in grande espansione è finito cioè è limitato se tu vai fuori dalle multinazionali Ubisoft Sony Activision trovi una grande lotta per cui appunto l'autorialità c'è ce n'è tanta specie guardando nel mondo dei videogiochi indie se tu vai proprio con l'anternino a vedere tutto quello che trovi intorno alla scena di Undertale ai giochi indie acclamati nell'anno di Undertale trovi tantissima autorialità detto ciò mi piacciono questi due esempi molto da un lato abbiamo l'indipendente da un lato poi abbiamo un'esperienza in Ubisoft perché poi alla fine io credo poi sia tutto vero che è un discorso di budget è un discorso di tante cose però è anche una triangolazione di cose nel senso per un Undertale c'è dall'altro lato faccio un esempio che è No Man's Sky perché? perché No Man's Sky è un gioco che ha avuto dei problemi nati dalla sua da un problema di comunicazione dalla grande importanza che ha dato Sony a un team di 15 persone che a un certo punto non è che possono 15 persone non è che possono fare è un gioco in cui c'è un universo espanso di mille e milla pianeti in cui tu puoi vedere sempre qualcosa di diverso non lo puoi fare e quindi ci sono stati dei problemi è un gioco che è passato alla storia come un gioco uscito monco però c'è la colonna sonora la colonna sonora fatta da 65 di Sostatic che è un gruppo post-rock famoso che fa le sue cose però lì nasce da c'è un'esigenza o mil pianeti che si generano proceduralmente e un soundscape che si deve adattare all'esperienza che cosa succede nasce quell'opportunità che da un lato è un fatto tecnico come dicevi tu il rapporto tra la programmazione e poi la composizione perché c'è Peter Weir che deve creare un motore per cui i suoni prodotti da 65 di Sostatic poi diventano gioco e si inventa proprio un generatore di composizione musicale che prende poi tutti i tappeti sonori fatti dal gruppo io sono andato a sentire il concerto dei 65 di Sostatic tipo a Newcastle e tu vedi che ci sono i brani del gioco che però tu nel gioco li percepisci in maniera totalmente scomposta ed è una cosa bellissima e ritorniamo sempre al problema di come ce la raccontiamo che è il grande problema secondo me dei videogiochi oggi perché con una chiacchierata del genere nel flusso quotidiano tu non la hai e il racconto del genere non arriva dall'altro caso prendiamo Ubisoft uno dei motivi per cui Assassin's Creed 3 di Ubisoft secondo me ha fallito oltre a perché ci sono stati diversi errori è perché il sound design è uscito monco anche lì perché via Jasper Kid che era uno che appunto ha salutato realità cioè Jasper Kid è un nome e lavora in un certo modo non ricordo se fosse Lorne Balf il compositore di Assassin's Creed 3 e succede un problema che perché Assassin's Creed deve uscire perché poi il problema è la multinazionale penso che anche nella sua esperienza sono dei tempi folli crunch time sempre il 24 del gioco quindi a un certo punto tagli 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 e tagli da dove c'è il 7% del budget magari che cosa succede? Primo Assassin's Creed non al di fuori dell'Europa devi ricreare il suono dell'America e cosa che Jasper Kid aveva fatto con l'Italia rinascimentale andando a prendere dalla cultura tu senti chi parla in italiano senti la musica proprio la musica rinascimentale e anche se hanno l'accento pseudoamericano e noi italiani fa ridere però funziona perché ti crea un ambiente sonoro in cui ti muovi e che cosa succede in Assassin's Creed che riciclano i suoni di Assassin's Creed Revelations perché non c'hanno tempo e tu quindi senti i suoni che avevi sentito a Costantinopoli a Boston durante il Boston ti parti ed è un problema l'altra cosa è che non c'è proprio questo lavoro sulla materialità del suono c'è una colonna sonora presa classica della colonna sonora epica per carità con un tema riconoscibile però c'è quel problema poi parti vai arresto Ubisoft che ha capito che magari gli studi devono lavorare cinque anni sul gioco e farli uscire le varie pile devi alternare magari Far Cry e Assassin's Creed e Assassin's Creed adesso gli diceva il nome del game designer eh però Ashraf Ismael adesso lo conosci perché l'hai visto perché sta cambiando qualcosa sta cambiando il modo in cui lo vengono a raccontartelo e quindi hai una Assassin's Creed Origins che su una musica a uno dei primi giochi ad avere la colonna sonora firmata da una donna tra le altre cose quindi c'è anche anche lì un fatto politico un fatto di comunicazione così sì è un qualcosa che ti resta poi l'ultima cosa che ha fatto Ubisoft è Far Cry 5 quando ho lavorato sulla musica da giocatore poi non so nei processi interni da giocatore la lavoro bene perché la musica mi è arrivata la musica di Far Cry 5 me la ricordavo prima che giocassi il gioco anche se è una grande produzione perché c'è proprio un album con canzoni composte appositamente è un mondo che sta cambiando ma tra i due estremi il problema è sempre come la si racconta che è secondo me il tema più caldo del videogioco oggi perché c'è talmente tanta scelta talmente tanti processi talmente tante esperienze totalmente diverse che il problema è raccontarla in una maniera più interessante possibile che faccia scoprire i dettagli faccio solo una precisazione perché sulle donne nella musica dei videogiochi hanno se andiamo nel Giappone hanno in realtà un peso forse maggiore di quello degli uomini abbiamo tutti gli effetti sonori di Namco degli albori fatti da Junko Zawa che ha fatto proprio una ha di fatto lei definito tantissimo quello che sarebbe stato proprio tutto un certo stile non solo di musica ma anche di sound design poi la musica di Megaman uno degli standard della musica Chiptune una donna la musica di Castlevania una delle bombe totali della storia della musica dei videogiochi una donna e poi sì e nella e nella storia e nel sound team di Taito c'era Tamayo Kawamoto che ha fatto anche lei la musica di Commando un sacco di in Giappone c'era molte delle musiche di Street Fighter sono insomma un sacco della musica iconica della storia degli giochi giapponesi è femminile c'è da dire che se fai se vai nello stesso periodo in Occidente quindi tutta l'era del Commodore 64 e poi dell'Amiga donne non pervenute è il motivo per cui c'è Fascal Pore che Assassin's Creed cioè nel senso è proprio lo specchione a medaglia abbiamo parlato sempre di questa differenza tra Oriente e Occidente il problema è sempre un discorso di percezione e poi quindi ti fa notizia poi il dettaglio su Assassin's Creed stiamo dilagando adesso parto dalla sollecitazione e la descrizione che ha fatto Paolo sul discorso del suono silenzioso cioè del fatto che la colonna sonora o l'audio magari non lo percepisci direttamente nel gioco perché è talmente annegato bene nell'esperienza che poi quando lo risenti dopo a posteriori ci improvvisamente cogli la la grandezza dell'esperienza che hai fatto allora mi ha dagli ho detto cavolo ma quando ho giocato a Forbidden Siren che che è un gioco silenzioso e che punta molto su questa percezione del male che che ti ammazza il mondo quando senti per la prima volta la colonna sonora da sola mi vennero i brividi perché non mi ero accorto che ci fosse quasi la musica ma risentendola solo lei ero ritornato nella città con quelle dieci locazioni e stop ecco così esattamente un po' come Water Remains of Edith Finch che anche lì immagino c'è il livello di Milton in cui tu non ti ricordi cioè il tema di Milton lo senti e poi ti immagini e ritorni in quella scena ecco questo per me è un po' l'aspetto bello del videogioco cioè riuscire a raccontare le cose in modi diversi perché naturalmente nella come dire nella società classica tu dici quando chiedi raccontami un videogioco che ti piace per creare le persone il 99% cominciano allora c'è un principe con una principessa che si parte dalla storia non dalle meccaniche o da quello nuovo che deve essere sollecitato per dire quale domanda a voi tre al brucio oltre ai giochi che avete citato prima un gioco che vi ha dato una sensazione di questo tipo e che quindi sarebbe carino interessante da scoprire c'è la sensazione che non mi sono accorto che c'era la musica e poi l'ho notata ma aspetta è fighissima questa musica una domanda molto complicata se qualcuno ha una risposta già pronta vi passo il microfono scusa me l'ho già detto inside no no nel senso che è un gioco in cui effettivamente non tanto sull'aspetto narrativo ma sull'aspetto della meccanica in cui veramente c'è stato un grosso lavoro anche di umiltà immagino da parte dei game designer nell'accettare non di umiltà ma di apertura mentale nell'accettare che il suono potesse regolare alcune meccaniche di gioco a me quello viene in mente sulle atmosfere sulle atmosfere andrei sui titoli sui blockbuster perché sono quelli su cui poi cioè in effetti cioè poi c'è un pochettino più di lavoro a me Life is Strange è piaciuto tantissimo per quello che diceva lui cioè in 30 secondi sei un adolescente al college e sei lì però come anche come scelte Avantgarde secondo me Inside ha dettato sarà un turning point importante una parte una parte di me ti direbbe oltre ai già citati Life is Strange la cosa di bella di Life is Strange è che è trasversale cioè Life is Strange lo capisce chiunque proprio grazie a quel meccanismo cioè la mia ragazza che non è una giocatrice Life is Strange è impazzita e proprio per cui lei è una danzatrice ha usato obstacles per un pezzo perché entrava in quel mood e quindi mi hai bruciato What Remains of Edith Finch che è un capolavoro secondo me da ogni punto lo andiamo a guardare primo accettato per non citare anche Far Cry 5 per esempio secondo me la musica è una roba che è pazzesca ti racconta molto di più narrativamente così ma perché i testi e le canzoni sono belli io poi sono particolarmente legato a Nobuo e Uematsu ma perché è il periodo adolescenziale in cui tu ti identifichi tanto con i giochi con i personaggi io credo Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 per la mia generazione ma andando anche a recuperare Final Fantasy 6 c'è un periodo in cui io avevo quell'età in cui hai bisogno dei romanzi di formazione i miei romanzi di formazione sono quelli e se io sento oggi Eyes on Me o anche il tema del Gold Saucer ma tanti temi di Final Fantasy io provo delle emozioni che perché mi ricordano un periodo della mia vita e mi ricordano determinati momenti che ho vissuto giocando ma io secondo me in questo c'è l'area di mezzo carattere di Final Fantasy 6 che secondo me ha anche inaugurato una ricerca culturale molto molto o meglio e il simbolo non l'ha inaugurata ma è il simbolo di una ricerca culturale che unisce tante di queste cose quindi io ti direi molti pezzi di Nobuco e Mazzo di quei Final Fantasy però ci sono tante musiche dei videogiochi adesso mi viene in mente Project X per Amiga nel senso tante cose mi vengono in mente che mi raccontano io sento tante colonne sonore dei videogiochi anche dopo che ho giocato e a ognuna c'è una parte mi viene è un po' come le canzoni in cui fai diciamo le compilation che c'è un pezzo di te è un pezzo della tua vita e c'è anche la musica dei videogiochi è in dubbio guarda ti cito invece l'ultimo Zelda Breath of the Wild perché ha fatto nel senso è veramente un gioco in cui la musica ti racconta l'ambiente così bene in maniera così efficace e trovo anche molto interessante perché un conte farlo in scenari realistici trovo che sia geniale come loro l'hanno fatto invece in un ambito fantastico magico strano mi è capitato assolutamente di risentire la colonna la colonna sonora e ho rivisto tutti i luoghi del gioco nella colonna sonora e ho capito perché alcuni di quei luoghi che ho visto nel gioco li ho percepiti in modo così effettivamente così magico anche perché se ti vai ad ascoltare la colonna sonora di Breath of the Wild c'è della roba assurda cioè ci sono dei momenti molto classici molto tranquilli ma ci sono delle robe a livello di scelte di suoni arrangiamento e idee completamente fuori fuori dal mondo e anche proprio strane essendo Zelda un gioco ambientato in un mondo altro trovo che sia un lavoro completamente fuori scala e sì se devo dirti anche forse un gioco proprio nella storia dei videogiochi che più mi ha fatto l'effetto che dici ti dico comunque Zelda Breath of the Wild qualcun altro o forse intervento all'ora di Elia a concludere vi ringrazio tantissimo della vostra presenza qui a Torino per questo evento per la tradizione sono molto felice di come si sia concluso perché siamo tutti quanti assolutamente appassionati anche di videogiochi e di musica e di narrativa chiudere Bitvistory in questo modo si collega anche al termine stesso Bitvistory quindi un po' di storia perché history è tra parentesi quindi un po' di storia un po' di comunicazione un po' di pensiero anche ringrazio a tutti per essere venuti qui in questi due giorni lo staff i partner la location che ci ha ospitato Impact Hub che reputo meravigliosa per un evento del genere spero che si potranno ancora portare avanti le attività insieme ma ne sono sicuro ringrazio poi ovviamente tutti voi i relatori i partner il CEO Sound che ci ha dato una grandissima mano nell'organizzare tutta la parte più legata alla musica niente grazie ancora a tutti quanti voi e allo staff e ai volontari che hanno partecipato oltre 90 volontari che hanno partecipato sono distrutto sono due giorni intensissimi niente buonasera a tutti e ci si vede il prossimo anno perché sicuramente torniamo con la quarta edizione abbiamo anche già in mente l'idea del tema stiamo pensando all'automotive l'informatica nell'automotive perché ogni anno è diverso vediamo come andrà a finire al prossimo anno allora buona serata a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti